Parlando delle abilità che deve avere il terapeuta centrato sulla soluzione, questo tipo di terapia nasce con molte influenze per quanto riguarda l'MRI e Milton Erikson, che facevano del linguaggio ipnotico e suggestivo dei loro pilastri. Quanto è necessario questo tipo di linguaggio anche per il terapeuta centrato sulla soluzione? Guarda, le troverete? Non così fortemente necessario, però anche questa è una considerazione da fare che riguarda non solo il processo ma anche lo stile. Per quello che mi riguarda, ho fatto una formazione che è partita dalla mia strategia e poi si è evoluta rispetto al discorso dei terapeuta brevi e via discorrendo. Quindi nelle mie sessioni ho sempre utilizzato in qualche modo i principi che Erikson definiva l'utilizzazione, piuttosto che nella programmazione linguistica con un sistema di calco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche un po' di ipnosi conversazionale, no? Quindi la suggestione... Quindi evidentemente quando ho praticato, insomma, sia che la terapia brevi e la centrato sulla soluzione, non è che ho modificato questo mio modo superandi, questo mio atteggiamento e quindi mi funziona, mi ha funzionato, non perché funzioni io, ma probabilmente, anzi sicuramente perché quella cosa funziona, quella cosa che mettiamo in campo. Però non è così necessario, ok? Quindi rispetto, se dovessimo dire, la terapia strategica richiede nel primo stato del trattamento un linguaggio necessariamente evocativo e suggestivo, questo nella terapia breve e centrale sulla soluzione non è necessariamente così. Ripeto, se qua nel mio stile questo c'è e lo utilizzo anche rispetto alla formazione, magari qualcuno è formato di ipnosi ericksoniana, qualcun altro ha altre formazioni e quindi utilizza la comunicazione non verbale come canale ulteriore per... Perché no? Sono completamente d'accordo. Poi ricordiamoci che tutto quello che noi usiamo dobbiamo usarlo come di nuovo uno strumento con un fine, quindi chiediamoci perché stiamo utilizzando la comunicazione suggestiva, la comunicazione evocativa, delle metafore, un certo tono di voce piuttosto che un altro. Strettamente al brief queste cose non le usano, quantomeno non le insegnano e nelle terapie loro che ho visto effettivamente non ci sono. Noi l'abbiamo parlato anche nel libro perché ci è sembrato che effettivamente poterlo utilizzare orienti di più l'attenzione verso certi dettagli. Tu sai che epistemologicamente è piuttosto complesso e affascinante come modo di procedere, quindi non c'è una teoria forte. Non sentoci la teoria forte è anche difficile aggrapparsi e capire se usare una o l'altra tecnica. Loro vanno per un principio di cosa funziona. Quello che vedo già nelle sedute che funziona, studiano le sedute, no? Le registrazioni. Vedo che è stata fatta una cosa, funziona, provo a replicarla per vedere se continua a funzionare. Nel caso in cui funziona, allora diventa un elemento del loro modello. Questo ti rende difficile ipotizzare a priori se effettivamente qualcosa che vuoi introdurre può essere funzionale. Dovrebbe essere testato. Noi lo utilizziamo perché ritemiamo che possa essere di aiuto. Se una persona non è formata a utilizzare questo tipo di linguaggio, farà come al brief. Al brief le cose funzionano benissimo uguali. Va bene, grazie. Allora, concluderei con la partenza di una seduta di terapia a seduta singola, terapia breve centrata sulla soluzione, che chiede quali sono le tue migliori aspettative da questo incontro. Stiamo vivendo un periodo molto molto difficile da un anno a questa parte e viene anche difficile pensare che possano esserci delle migliori aspettative per le persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico in questo momento. In che modo la terapia breve centrata sulla soluzione può venire loro in aiuto? Guarda, è una domanda che mi emoziona un sacco perché in realtà qui si vede la potenza, una delle forme di potenza della terapia centrata sulla soluzione. Perché? Che cosa fai? Molti terapeuti si sono trovati nell'impasse di utilizzare dei modelli che comprensibilmente richiedono anche il vivere come si viveva prima, o anche banalmente uscire di casa. E nel momento in cui lo puoi fare non è così facile riadattare certi modi di essere, di vivere, certi modi di utilizzare la terapia, in particolare ai modi di essere e di vivere della persona durante il lockdown, durante la pandemia in generale. Come fai a fargli fare un'esposizione graduale all'oggetto fobico se l'oggetto fobico è fuori di casa? Come fai a lavorare su un problema di relazioni se non possono avere relazioni? Quanti ragazzi e ragazze ci troviamo adesso che vivono la solitudine e ti vengono con un problema di solitudine e tu non puoi dirgli vai al parco, vai ai ristoranti, vai al circolo del libro, prova, perché non si può. Ecco, la terapia, a breve, c'è entrare sulla soluzione. Nel momento in cui chiede alla persona di immaginare, per esempio, il giorno dopo il miracolo, la sua migliore, ancora prima, come ho detto tu, la sua migliore aspettativa nella condizione di adesso. Non sono io terapeuta che ti dico questo è l'obiettivo, lo chiedo a te, qual è la tua migliore aspettativa? Qual è la tua migliore aspettativa considerando la condizione di adesso? E questo è fondamentale perché neanche ti devo convincere, neanche ti devo dire, guarda però, ora non puoi uscire, perché sei tu che dai le valutazioni, sei tu che utilizzo, anzi, sei tu che utilizzi, io ti permetto di farlo, il tuo esame di realtà, se vogliamo metterla così. E poi sei tu che ti proietti, sempre grazie alle domande del terapeuta, nel tuo futuro desiderato che comprende ovviamente questa situazione. E allora, se una persona dice, per esempio, io vorrei avere delle relazioni un po' più intense con le altre, essere più capace di avere relazioni, ma non posso andare fuori, io nel futuro desiderato ti posso chiedere, di cosa ti renderai conto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in questo stato di lockdown, di zona rossa, di relazioni limitate, di cosa ti renderai conto? Quali sono gli indizi che ti faranno dire che comunque il tuo modo di approcciare alle relazioni, il tuo modo di interagire con gli altri sta cambiando? Cosa che noterai in questo contesto che però ti farà dire che sta cambiando qualcosa? Questo è fantastico perché è come l'acqua, si adatta al contenitore in cui si viene a trovare la persona in quel momento. Condivido anche rispetto al fatto che il mio, diciamo, l'incipit della mia tutoria di terapia, questo da sempre, insomma, quando ho iniziato era sempre stata la frase qual buon vento ti porta, no? E questo era già sul focus, nel senso che non era qual è il problema per cui sei qui e quindi probabilmente già era qualcosa che dentro di me, insomma, veramente andava in qualche modo fiorendo. E questo fa sicuramente la differenza, perché anche nell'aspetto pandemico, la scelta di sottolineare quello che ti sta togliendo questa esperienza pandemica, rispetto al fatto di invece che opportunità ti sta dando questa crisi, no? In questo momento particolare cambia completamente la possibilità. Poi evidentemente, insomma, sempre essendo aderenti alla realtà, alcune cose vanno rivisitate, però già col futuro desiderabile ci permette di rivisitare cose che magari non sono subito rivisitabili, no? L'esposizione che diceva prima a Flavio, anzi paradossalmente proprio la possibilità di far costruire il futuro desiderato, si può fare anche senza toccarlo con mano in qualche modo, no? Quindi è sicuramente un'altra occasione che questo, un'opportunità che possiamo sicuramente cogliere da questo modo di fare terapia. Molto bene. Io potrei aver finito le domande. Dice qualcuno che avrei finito qui. Mi ringrazio tantissimo. Sì, bravissimo. Soprattutto super interessante. Grazie a te per la disponibilità. Ci vediamo online. Ci vediamo online. A presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao.